Tanti, tantissimi gli argomenti di cui parlare, dal modulo nuovo scelto da Dejan Stankovic nella partita di ieri, nella prima vera uscita da parte della Sampdoria, all'offerta che è arrivata da parte di Merlin Partners, secondo ANSA, ma adesso andiamo a parlare perché bisogna sempre prendere tutto con le pinze quando si parla di gestione della Sampdoria. Un saluto a tutti gli amici di Cornell Sampdoriano, prima di iniziare come al solito iscrivetemi, mettete un pollicione su al video se è il vostro gradimento ogni mercoledì sera live sul nostro canale Twitch, quindi qualora lo vogliate ci trovate per parlare dei colori più veri del mondo, ma adesso iniziamo con il video. Bisogna fare un po' il punto sulla situazione e da un po' che non lo facciamo, io lo sapete ho avuto anche dei problemi, ma mi vedete, sto assolutamente meglio, vi ringrazio per tutto l'affetto che è arrivato. Che dire, davvero ci sono tante cose da dire, partiamo però con l'offerta che arriva da Merlin Partners, perché si parla dei 30 milioni di cui la Samp ha bisogno più ulteriori eventi, quindi un'offerta bincorante di 50 milioni di euro. E' uscito oggi l'articolo da parte di Ansa alle 13 e 15, quindi prendiamo tutto con le pinze, diversi testati giornalisti che lo hanno riportato, quindi qualcosa di vero c'è. Speriamo, è stato rinviato anche il consiglio del CDA che era previsto per mercoledì 14, è stato rinviato al 19, quindi stiamo parlando di lunedì prossimo, quindi sarà una data importantissima, quindi assolutamente occhio a quello che succederà settimana prossima. Vedendo però quest'offerta mi sento abbastanza tranquillo. Diciamo che Merlin Partners è una società che è stata fondata da un italiano, Alessandro Barnaba, chiediamo scusa per la pronuncia, penso si pronuncia di Barnaba. È un uomo italiano che ha solidato a Roma e Lille, società acquistata da Merlin Partners, era più o meno nella situazione dell'Assemblea perché era debilitata di 120 milioni di euro. Direi che più o meno siamo lì, più o meno nella stessa situazione della Samp e si è rilanciata vincendo la Supercoppa Francese, vincendo il campionato. Ve lo ricordate sicuramente la favola dell'Ile all'ultima giornata contro i super campioni del Paris Saint Germain, quindi i presupposti sono buoni. Io però non mi sento di sbilanciarmi ulteriormente, sappiamo che questo è un uomo che ha lavorato discretamente bene in Francia, sappiamo che è una società che ha lavorato abbastanza bene in Francia, quindi cerchiamo di mantenere la calma, di non mettere pressione, l'obiettivo è sicuramente quello di non retrocedere, seppur difficilissimo, però c'è assolutamente da lavorare, quindi accantoniamo questo discorso perché ce lo teniamo buono per quanto riguarda la diretta di mercoledì sera. E andiamo a parlare anche di quello che sarà la live di questa sera, mi potete trovare live, ma questo lo vedrete nelle nostre storie, corner-sampdoriano su Instagram, andiamo a vedere cosa è successo ieri, perché è arrivata questa novità di Dejan Stankovic, finalmente si torna al 4-3-1-2, che è un modulo che io adoro, ed è quello per cui hai costruito la Samp, perché Giampaolo ti chiedeva il 4-3-1-2 e tu sei andato a prendere gli interpreti che, bene o male, possono farlo. Convocato Wins nel ritiro in Turchia, sperando che abbia ancora due gambe, sperando che respiri ancora e sperando che possa fare qualcosa, magari entro gennaio, perché io non nascondo le sue qualità, però a livello fisico assolutamente abbiamo bisogno di lui, ed è un giocatore che alzerebbe, e non poco, l'asticella. Bocciato, bocciatissimo Ferrari, da parte di Mr. Stankovic, che lo ha messo già addirittura sul mercato, secondo molti, la famosa lista nera, ecco, Ferrari è proprio uno di quelli super bocciati da Mr. Stankovic, quindi andiamo a vedere questa situazione con calma, e questo per molti, e anche secondo me, significa una cosa, che arriverà a Dragovic, che è il famoso giocatore che chiede, che conosce molto bene Stankovic, quindi è uno che ha carattere, lo conosco discretamente, è uno che è tosto, è un po' in là con l'età, ma ormai è un requisito fondamentale per giocare con la Sampdoria, quindi non ci facciamo altri problemi, pensiamo salvarci, per me è un nome validissimo, anzi, ben venga, si parlava addirittura di José Fonte, ultra 37enne, penso, tra Dragovic e Fonte, io scelgo Dragovic, quindi spero che possa venire lui, e cosa ci ha detto questo, dalla parte di John Stankovic? Ci ha detto che lui vuole contare molto, quindi bisogna andare a lavorare, su quello che sarà il modulo, su quello che saranno gli interpreti, perché se vuoi andare a bocciare Meta Rosa, sicuramente deve andare a vendere, e devi cercare di comprare qualcuno, che sappia più o meno giocare a calcio, diciamo a livello di Serie A, cosa che sembra banale, ma non lo è assolutamente. Venduto Ciccio Caputo? Quasi fatta, secondo Di Marzio, secondo tutto il mercato web, diverse fonti lo citano, scambio l'Ammers-Marin. Se dovesse essere vero, io vado fino a Empoli, firmo, io mi porto in braccio a tutti e due, Ciccio, io non ho nulla di personale, è un giocatore che a me è sempre piaciuto, però è indifendibile, dopo questi anni, davvero mi aspettavo molto molto di più da Ciccio, bocciatissimo questa stagione purtroppo, nonostante, ripeto, è un giocatore che a me piace, però mi dispiace Ciccio, mi dispiace, spero che potrà rialciarsi in Toscana, però per quello che ho fatto vedere anche ieri, perché adesso ne andiamo a parlare, bocciatissimo Ciccio Caputo. arriva l'Ammers, che è un giocatore che a me piace, è un giocatore diverso da Caputo, è un giocatore molto più veloce, molto più dinamico, quindi io spero possa arrivare, e arriva Marin, che è un giocatore che è al caso nostro, assolutamente, secondo me metterà molta più voglia, molta più rinta, e anche a livello tecnico, era uno dei migliori, secondo me, del centrocampo, dell'anno scorso del Cagliari, quindi, ha esperienze in Serie A, quest'anno ho trovato poco spazio, si era anche fatto male, non mi ricordo chi dei due ha avuto una brutta defezione fisica, però, sta tornando, proviamoci, tanto per vedere questo Caputo, proviamo a prendere questi due, se dovessi arrivare tutti i due, chapeau, e vado a dare la mano a Lanna, e a chi sta facendo il mercato, partire ieri, si può commentare poco, perché abbiamo giocato contro la squadra sudafricana, però, si vede, qualcosina, si vede che Caputo non sta in piedi, perché, parte in contropiede sul gol di Gabbiadini, e cade in giamba da solo, per poi, coprire bene le palle, darda di nuovo a Gabbiadini, poi Gabbiadini che segna fuori aria, Ciccio che segna, Cogliarella che segna, Montevago che sbaglia un gol a porta vuota, a livello di episodi, è una partita che non si può commentare, ovviamente, bisogna andare a vedere, più che altro a livello tattico, cosa potrà cambiare, e di cosa bisogna la Sampdoria, a livello difensivo, bisogna cambiare tanto, con Dragovic si andrebbe, a trovare uno che martella tanto, ed è quello di cui la Sampdoria ha bisogno, quindi a livello difensivo, io andrei a prendere un altro centrale, e a vendere Berzinski, cercando di prendere un altro terzino, per quanto, tu possa fare, 50 milioni l'offerta di Merlin, 30, che sono, quelli di cui ha bisogno la Sampdoria, più altri 20, io non so di questi altri soldi, che metterà Merlin, quanti saranno investibili sul mercato, però, qualcosina dovrei provare, quindi, cerchiamo di vedere, anche come si comporterà questa società, per me servono assolutamente, i terzini, tutte e due, ma, più che sulla sinistra, sulla destra, perché Berzinski, davvero, non lo posso più vedere, è una cosa mia personale, non lo voglio più vedere, a livello di centrocampo, qualora, non dovesse essere disponibile Wings, devi vendere qualcuno, devi vendere un Pierati, devi vendere, Verre, qualcuno devi vendere, sperando, che non parta Sabiri, perché, comunque, è un fuoriclasse, per quello che abbiamo, e, io voglio vedere, grinta, voglia da Sabiri, non voglio vedere, l'ultimo Sabiri che ho visto, però, quello che sta facendo vedere la Mondiale, qualcosina può dare, quindi, Sabiri, io lo terrei, ancora, fino a giugno, sperando che il suo livello, si alzi ulteriormente, e magari, potresti anche rivenderlo, a cifre maggiori, ma, vediamo, come gestirà, ovviamente adesso, con il discorso del Mondiale, ha molto, molto mercato, e, venderlo anche adesso, mi rendo conto, che potrebbe avere, dei vantaggi, però, sono cose che, che andremo, che andremo a vedere, quindi, uno barra due centrocampisti, se dovessi vendere Sabiri, in quel caso, devi dare a prendere qualcuno, qualcuno, può essere un Dario Saric, può essere Marin, che è un giocatore validissimo, quindi, già, con Marin e Saric, che è un giocatore che io vedo giocare in Serie B, prendiamolo, e poi, vedendo quello che ha fatto Lille, secondo me, questa società, potrà trovare qualcuno, che fa a caso nostro, a livello offensivo, c'è Gabbiadini, che io lo tengo, c'è Quadrierelle, che lo tengo, se lei vi ha caputo, arriva anche l'Ammers, e il rientro di De Luca, benvenga, quindi, fateci sapere voi, cosa, secondo voi, di cosa ha bisogno la stampa, di che interprete ha bisogno, contando anche, quelle che sono, purtroppo, le, le disponibilità economiche, che sono quelle che sono, però, magari, con un'accessione, prima di, prima dell'apertura del mercato, qualcosina, ci possiamo inventare, siamo a meno 7, dalla salvezza, sono tanti punti, soprattutto, perché ne hai fatti 6, e, non so quanto sarà facile, farne 7, e farne ancora, 7, per raggiungere la spezia, di sfiorare che la spezia non vinca, eh, sono tutti discorsi, purtroppo brutti, ma, la situazione della stampa, non si scopre oggi, quindi, seguiteci, sul profilo Instagram, a corner, tattino basso, Samp Doriano, da Mattia è tutto, da corner è tutto, sempre Forza Samp,